Questo canale contiene le mie personali opinioni, se non siete in grado di farvi una risolta Si sente che c'è? Quindi era una cosa buona Però devastante Io non per rotondare E... Quindi era una cosa buona Devastasta Stupefatto Mettete like al video se vi è piaciuto Commentate sotto nei commenti Seguitemi anche su Instagram Sul canale Telegram Mille dinaro dello svaffo E non guardare il video Buonasera ragazzi bentornati in un nuovo video del più dinaro dello svapo Questa sera vi farò vedere Vado Gem By Freemax Vi leggo al volo le specifiche tecniche Allora Batteria integrata da 2900 mAh Quindi è una batteria che è abbastanza grande Si può regolare 40W, 60W e 80W Output massimo 42A 4,2V Tiene resistenze che vanno da 0.1 Ohm a 3 Ohm E cos'altro aggiungere se non andiamo a vedere cosa c'è dentro la nostra scatola Ecco qua ragazzi Questa è la nostra scatola Andiamo ad aprirla E al suo interno abbiamo Una carta di warning La carta di garanzia Manuale delle istruzioni Ma sono facilissime Sono facilissime quindi non le andiamo a leggere Poi abbiamo Due tappini di ricambio per il nostro serbatoio Abbiamo un cavetto USB Che è contenuto qui dentro Eccolo qua Per la ricarica Dopodiché finalmente arriviamo al nostro tubo E ai nostri due tank Ne andiamo a tirare fuori uno E andiamo a vedere come funziona Iniziamo dal nostro tubo Allora il tubo Abbiamo la scritta Freemax In questo caso qui è viola Sotto ai fori Disfiato E è fatto veramente bene Qui abbiamo sempre il logo Gem 80W Presa USB Per la ricarica della batteria La batteria È da 2900 mAh Quindi È molto buona Con 5 clic Lo andiamo a accendere Fa 5 lampeggi Se noi andiamo a cliccare Adesso ci dà un lampeggio rosso Il lampeggio rosso Vuol dire che la stiamo utilizzando A 40W 3 clic Lampeggio giallo Con il lampeggio giallo Stiamo a 60W Altri 3 clic Lampeggio verde Con il lampeggio verde Siamo al massimo della potenza Che sono 80W Riclicco 3 volte E la riporto al minimo Perché inizieremo a provarla Dal minimo poi Mentre Per l'atomizzatore Che è un tank Usa e getta È similissimo Al preco Ovviamente si può regolare L'aria da tutta chiusa Tutta aperta Di solito funziona bene Con l'aria tutta quanta aperta Qua sopra abbiamo Il nostro tappino Per la ricarica E adesso Lo andiamo a ricaricare Lo vado a ricaricare Con il svrt Di Ejuice Depot Che è un liquido Che a me piace Veramente tanto Ok Non c'è bisogno Di farlo pieno Fino all'orlo Però lo potete riempire Tranquillamente Lo andiamo a montare Qua sopra E possiamo vedere La nostra combo completa Che non è neanche Non è male Dai Bisogna essere sinceri Il tubo è bello Anche per montarsi sopra Altri atomizzatori Il pezzo sopra Un po' meno Però Non è Non è una brutta combo Intanto voglio ricordarvi Che questa qui Questo tank qui È in dual coil Sempre a mesh Qui dentro Non si riesce a vedere Da 0,2 ohm Mentre l'altro tank È single coil Come il preco E la resistenza È da 0,15 ohm Adesso andiamo A provarla Allora Sto provando Il tank Che ha dentro Ha la dual coil A mesh Perché l'altro Ce l'ha anche Il preco E quindi voglio provare Questo tipo Di coil qui La sto iniziando A usare A 40 watt A 40 watt Il vapore Esce A una temperatura Tendente al freddo Fresco Non è cremosissimo Ma a me piace Da matti Vi faccio vedere La svappata Di profilo Come esce A 40 watt Ok Magari Poi dopo Non cambia niente Con gli altri Però Non volevo vedere Anche la densità Perché secondo me Cambia parecchio Vado a fare Tre click Giallo E sono passato A 60 watt A 60 watt Il vapore A 60 watt Il vapore aumenta Notevolmente Anche la temperatura E anche Il sapore dolce Secondo me I 40 watt Sono I 60 watt Ovvero La luce gialla Quella del mezzo È la Il setting migliore Per gustarlo a pieno Perché non è Ne troppo Ne poco È bilanciatissimo L'aroma L'aroma È buono Come Nel preco Forse è un po' Più buono Del preco Quindi per adesso Sono molto soddisfatto Di questo prodotto Il tubo è anche bello La combo ci sta E soprattutto Io la consiglierei Per metterci sopra Anche un Un tank Tipo Il Profile Unity Perché È molto bello E rende Veramente bene Poi li supporta Quindi Non c'è assolutamente problema Andiamo a fare tre click E provarla al massimo Ovvero 80 watt Ora si fa sul serio Ragazzi 80 watt Secondo me Sono un pelo troppi Ovviamente Non è che sono troppi Perché perderò Ma anzi Non lo perde Però A me piace Svappare Un po' più Relax Vi faccio vedere La quantità di vapore E di cremosità Che c'è A 80 watt È un'altra cosa Qui si fa una nuvola È veramente buono Io però Lo svapperò Sempre Con La modalità Quella più bassa Quella da 40 watt Perché secondo me È una svappata Più longeva Che vi Vi tiene compagnia Anche per tutto quanto Il giorno L'altro Dopo un po' Secondo me Stufa Perché è troppo Una cosa che ci tenevo a dire È che io non sono Assolutamente Pro Per questo tipo di Tencus e getta Perché è uno spreco Un inquinamento Enorme È una cosa che a me da Mi scoccia Mi da fastidio Quindi questa cosa qua Io la straconsiglio Per un pubblico Che può essere Chiunque Per dire Andate in vacanza Due settimane Non volete prendere La roba da rigenerare Vi portate Tre di questi qui Per una volta All'anno Non succede niente Ci sta Andate a ballare la sera Vi prendete su questa qua Ci sta Se cade Non si rompe Chi se ne frega Costerà 4 euro 5 euro Non è quello il problema Ma per uno svapo Di tutti i giorni Ragazzi Compratevi un tank A mesh Tipo Il profile Unity Che costa poco Rende da paura E quando dovete togliere Il cotone Eccetera eccetera L'inquinamento È molto Di meno Che questa roba qua Che viene bruciata Negli inceneritori Però È promossa Il tubo mi piace Funziona bene L'erogazione È stabilissima Non si scalda Quasi per niente Si ricarica In poco tempo Perché in un'oretta È completamente carico Forse anche qualche cosina di meno Quindi Lo straconsiglio Detto questo ragazzi Vi saluto Vi invito a iscrivervi al canale Mi raccomando Mi raccomando Condividete il video Firmate la petizione Vapings not tobacco Seguitemi anche sul canale Telegram Sulla pagina Facebook Sulla pagina Instagram Io vi saluto ragazzi Vi auguro una buona serata E mi raccomando Fate i bravi stasera Sssssss Sulla pagina Sulla pagina Sulla pagina Sulla pagina